La Procura di Potenza guidata da Francesco Curcio non ha ancora assunto alcuna decisione in merito all'inchiesta sui rifiuti che dalla Tunisia giacciono al porto di Salerno in attesa di essere trasferiti presso l'area individuata nel comune di Serre. Lo ha confermato a telefono questa mattina il Procuratore Curcio ricordando che soltanto ieri la Procura Generale ha affidato le competenze dell'inchiesta al territorio dove i rifiuti sono stati raccolti dall'azienda SRA di Polla che dopo aver inviato le 6.390 tonnellate in Tunisia se le viste rispedite indietro al porto per un'inchiesta che dalla nazione nordafricana ha bloccato il traffico illecito di rifiuti e portato all'arresto di 32 persone tra cui il Ministro dell'Ambiente. Non appena la Procura darà il via libera sui container attualmente posti sotto sequestro da Guardia di Finanza e Noe si potrà procedere alla caratterizzazione. L'Eda e la Regione Campania hanno infatti avviato tutte le procedure per fare in modo che d'accordo con il RUP Liliana Monaco si proceda per l'analisi di tre container per ogni blocco quindi nove direttamente in una zona individuata all'interno dello scalo commerciale di Salerno. Si spera così all'esito delle analisi che dovrebbero confermare la presenza di rifiuti innocui secco indifferenziato di poter procedere al trasferimento verso il sito situato nell'area di Serre calmando le preoccupazioni delle popolazioni che dal primo momento in cui si è resa nota la scelta sono insorte contro l'arrivo dei rifiuti. Ancora invece senza risposta alla proposta di un gruppo di medici di analizzare se nei contenitori possono esserci radionuclidi nei rifiuti provenienti dalla Tunisia. Grazie. Grazie.